Musica Sabato 7 settembre, alcune centinaia di persone si recheranno ancora una volta a piedi dalla Basilica dell'Impruneta, il santuario di Santa Maria dell'Impruneta, a quello della Santissima Annunziata a Firenze. Ne parliamo con il Presidente dell'Associazione In Cammino, promotrice dell'iniziativa Tommaso Favalli. Tommaso, il pellegrinaggio, questo pellegrinaggio della Santissima Annunziata nella vigilia della Natività di Maria è ormai da anni una bella realtà, siamo alla non edizione se non sbaglio. Ma ricordiamo anzitutto da quale tradizione storica nasce? La tradizione è antica perché risale al XVII secolo, quando per la vigilia della Natività di Maria da tutte le zone intorno a Firenze, quindi dall'Impruneta ma anche da altre parti, molte persone venivano per poter festeggiare poi l'8 settembre, che è la Natività di Maria, nella Santuario Fiorentino della Santissima Annunziata, la festa dedicata alla Madonna e quindi essendo lungo il percorso da fare a piedi, si mettevano in cammino la sera prima con queste lanterne per farsi luce semplicemente, però doveva essere un grande spettacolo perché nella tardo pomeriggio del 7 si doveva vedere da tutte le parti confluire a Firenze tutte queste luci e tutte queste persone poi la notte restavano lì nei luoghi della Santissima Annunziata, sotto i portici della Santissima Annunziata e poi il giorno della Natività di Maria c'era questa fiera in cui loro potevano addirittura vendere degli oggetti, delle cose da cui tra l'altro la fierucola, da cui il famoso nome Rificolona che a Firenze tutti penso conoscano ormai. E che è appunto la festa che era rimasta e che è ripresa ultimamente in parallelo anche col percorso il 7 settembre. Questo era il senso che aveva appunto per i contadini venire a rendere omaggio a Maria nei secoli passati, ma oggi che senso può avere questo fammino e comunque anche per chi non fa il cammino, questa tradizione comunque di recarsi alla Santissima Annunziata che è il santuario più importante dedicato alla Madonna in città. Beh secondo me il senso che può avere oggi un pellegrinaggio o recarsi appunto alla Santissima Annunziata la sera non è molto diverso dal senso che poteva avere nei secoli scorsi, perché il senso almeno che io vedo nell'iniziare l'anno, il 7 settembre con questo gesto è semplicemente un gesto di domanda e di affidamento oltre che di festa, no? Perché è la festa della Madonna, ma il senso di andare a affidare la propria vita davanti alla Madonna. L'unica cosa che secondo me può cambiare dal passato a oggi è sicuramente che forse oggi un gesto come un pellegrinaggio può sembrare un goccino folcloristico, forse ha l'odore di qualcosa di antico, fare un pellegrinaggio. Ma io penso che in realtà dentro un pellegrinaggio ci sia una grande metafora della vita, ecco perché il pellegrinaggio è un gesto profondamente religioso nel senso più buono del termine, nel senso che è un popolo che si mette in cammino con una meta comune e come nella vita si cammina andando da una parte verso una meta comune perché è molto difficile camminare senza sapere dove si va. E si cammina insieme, cioè si cammina insieme a delle persone, insieme a un popolo. Questo secondo me è un gesto che è importantissimo e che aiuta molto a capire cos'è la vita cristiana e aiuta molto a domandare una cosa che molto poco facciamo oggi, che tentiamo di vivere la vita in maniera più autosufficiente possibile, in maniera più solitaria. Siamo molto solitari, ecco. Sì, è un po' quello che la società di oggi ci porta in qualche modo a fare. Ma ecco, appunto dicevi proprio di questo camminare insieme, di questo popolo. In realtà questo gesto era nato da un piccolo gruppo di amici, mi sembra la prima edizione, non erano in molti, ma sta sempre più coinvolgendo la chiesa fiorentina e non solo. Mi sembra un importante anche perché, diciamo francamente, all'interno della chiesa stessa si fa fatica spesso a vivere il discorso del semplice trovarsi anche insieme a livello diocesano, a fare gesti comuni come questo. Certo, infatti io di questo sono veramente contentissimo e sono grato perché diciamo che questa è una cosa che mi dà molto coraggio e a me e ai miei amici che organizziamo ci fa, diciamo, vedere bene come questo oggetto, se mi passi il termine, sia benedetto da Dio, ecco. Perché effettivamente tutte le realtà della chiesa hanno magari, fiorentina, no, ma comunque noi siamo qui a Firenze, è ovvio che tante realtà hanno vocazioni che possono essere declinate in maniera un goccino diversa, no? Se penso a, non so, alla misericordia, alla carita, alla unità, al senso, tutte cose, ognuno ha una sua come missione specifica, una sua vocazione specifica, ma in fondo la grande vocazione di tutte queste realtà è quella di servire la chiesa e di vivere la fede all'interno della chiesa e quindi in realtà questa unità c'è già, questa unità c'è già, è data dalla chiesa stessa e dal motivo per cui un'associazione o un'altra fa quello che fa, cioè ognuno di noi che appartiene a un'associazione o penso che lo faccia principalmente per camminare nella chiesa, per camminare verso, nella fede, ecco. Quindi il fatto che questo gesto da solo, senza che nessuno abbia forzato niente, col tempo, partendo da quel gruppo che dicevi di pochissime persone, fra l'altro io non c'ero perché io mi sono aggregato il secondo anno, poi mi è stata chiesta la presidenza, ma in quel primo gruppo di 50 persone io non c'ero, quindi anche io sono uno di quelli che ha visto questa cosa e si è aggregato. Il fatto che spontaneamente, naturalmente, tante persone abbiano sentito come il desiderio di partecipare, per me è una cosa molto bella, ma soprattutto è una cosa che indica che questo pellegrinaggio è un gesto vero e voluto da Dio, ecco, perché semplicemente all'interno del pellegrinaggio siamo, certo in realtà, ci sono tante realtà che partecipano, ma siamo tutti a domandare la stessa cosa. Ed è una cosa penso che possa anche ispirare senza forzare copiature, ma insomma ispirare magari esperienze analoghe anche nelle altre chiese della Toscana, ma ecco, volevo ricordare una cosa, il pellegrinaggio dell'anno scorso è stato segnato dalla commovente testimonianza di Caterina Morelli, che è una giovane mamma, ne abbiamo parlato più volte su più mezzi di comunicazione dopo la sua morte avvenuta a febbraio, che ha lasciato veramente un segno e tra l'altro ha pure, cioè lei collaborava, lei stessa collaborava all'organizzazione pellegrinaggio, ha pure disegnato il logo. Ecco, cosa ha voluto dire per voi questa amicizia? Più che cosa ha voluto dire, io direi che cosa vuol dire questa amicizia, ecco, perché sinceramente il fatto di Caterina è un fatto che pur nel dolore che ci siamo trovati a vivere e più di me ancora ovviamente i familiari, il marito, Jonathan, che anche lui con Caterina sono nell'organizzazione del pellegrinaggio attivamente, cioè è un gesto che pur dentro questo dolore secondo me ha dato una grande speranza perché è stato un momento ed è tuttora una testimonianza luminosa e io penso che se mi permetti una piccola considerazione culturale che sia per noi, sia per noi cattolici che viviamo questi tempi, sia per il mondo, questo sia una testimonianza abbastanza straordinaria perché più in giro vedo molto dolore, il dolore c'è, è inutile nasconderselo, la televisione ne parla di continuo, tante famiglie hanno situazioni problematiche, insomma il dolore lo viviamo tutti, questo voglio dire, ma sempre di più secondo me si tende a nascondere, si tende a vivere in maniera solitaria, si tende a vedere il dolore un po' come una dannazione, come una sentenza da cui non si può scappare e sempre di più si vede secondo me nel mondo tanti piccoli dolori isolati e giustamente si fronteggia sempre peggio e invece la testimonianza di Caterina che è stata e che è tuttora, soprattutto guardando alla sua famiglia, come sta vivendo adesso, al suo marito, ai suoi figli, è un dolore che lei ha vissuto, diciamo non ha avuto paura di vivere il suo dolore, l'ha vissuto alla luce del sole, l'ha vissuto con coraggio, con fatica ma con una forza che oggettivamente, il dolore è poi fino alla morte, con una forza che è oggettivamente spiegabile e straordinaria e questo secondo me è una testimonianza enorme per ognuno di noi, ma per tantissime persone, infatti non mi sorprende che questo fatto stia, insomma che sempre più persone stiano conoscendo Caterina, non perché sia una cosa speciale nel senso di, non che lei sia un supereroe, ecco, ma perché è un punto luminoso che attrae, per questo motivo secondo me e recentemente Jonathan, il marito di Caterina, ha anche fatto una testimonianza a un altro grande pellegrinaggio che è il pellegrinaggio della Macerata a Loreto che c'è tutti gli anni a giugno, che è un grandissimo pellegrinaggio e sempre più persone sono desiderose di scoprire cosa c'è dietro Caterina, ecco. E per quanto riguarda noi, che dire, quanto è importante la sua testimonianza? È importante perché noi alla fine organizziamo questo gesto e viviamo questo gesto per crescere nella fede e lei in questo senso cammina con noi, in questo senso lei ancora ci aiuta a crescere nella fede, non più camminando con noi come gli anni passati fisicamente, ma con la sua testimonianza. Bene, grazie, grazie di cuore a Tommaso Favalli e appuntamento non solo alla prossima volta, ma anche al pellegrinaggio del 7 settembre. Grazie a voi.